Ciao a tutti, io sono Giorgia e voi siete sul mio canale. Dunque dunque, oggi sono qui per fare un video che non giravo davvero in te un sacco di tempo e anche con delle varie ragioni, ovvero la TBR, che non è solo to be read ma anche troppi bei romanzi. Le TBR sono fatte per non essere rispettate e questo lo sappiamo tutti, però dato che le ultime che avevo fatto, che non ricordo neanche quali siano, cioè ne ricordo forse una di aprile, non so neanche se ho fatto la TBR estiva, vabbè, e anche perché la prima e ultima volta che ho tentato di fare una readathon, la Reading Rush, è andata malissimo, non ho letto praticamente niente di quel che dovevo leggere, quindi avevo evitato di farlo, però dato che ci sono dei libri che sono sicura che leggerò nell'immediato periodo, comunque nei prossimi mesi, cioè novembre e dicembre, ho detto vabbè, parliamo di libri che sono relativamente sicura che leggerò entro la fine dell'anno, così facciamo i buoni propositi prima della fine del 2019. Allora, io al momento sono circondata da libri e partiamo già malissimo, però bisogna anche dire che buona parte dei libri con cui li ho già anche iniziati, quindi sono fiduciosa, almeno sui primi che vi presenterò, gli altri li lasciamo un po' così, allo sbaraglio, come sempre, come la mia vita. Allora, partiamo da un'impresa in cui mi sono imbarcata, disarmata, perché mi sono resa conto solo in itinere di quanto fosse spaventosa questa cosa, ovvero il GDL Fairy Talking, il GDL di Chantal di Fairy with a Big Fit, che si propone di leggere un mese per volta i tre libri del Signore degli Anelli, ovviamente. Io ho qui la mia copia, e allora partiamo dal fatto che io ho iniziato a leggere La Compagnia dell'Anello, tipo in mega ritardo, avrei dovuto iniziare il primo di ottobre, adesso voi vedrete questo video il 30 se non erro, e dovrei in realtà aver finito La Compagnia dell'Anello, haha spoiler! Ho iniziato il 10 comunque ed ero convintissima di non farcela, complice anche i vari impegni personali, però mi sono presto resa conto che leggendo un capitolo al giorno sono riuscita a rimettermi bene o male in pari. Quindi i propositi per la fine, il primo proposito per la fine del 2019 è adesso Compagnia dell'Anello, poi novembre leggere Le Due Torri, continuando con un capitolo al giorno che si può fare, soprattutto sui mezzi per andare in università ci riesco, l'ultimo libro come si chiama, non mi ricordo più, Il Ritorno del Re, e Il Ritorno del Re a dicembre, questa è la lettura di cui sono più sicura al millemila per cento che farò, e poter finire il 2019 dicendo ho letto finalmente Il Signore degli Anelli, già adesso mi riempie di gioia, mi fa sentire una persona nuova e migliore. Per chi mi sta seguendo su Instagram saprà anche che lo stile dell'autore per me è respingente, è respingente perché per tutta una serie di motivi in cui parleremo in un'altra sede, la storia in realtà non mi fa neanche impazzire più di troppo, però è un pilastro del fantasy e quindi devo leggerlo. Poi altro libro che ho in corso da agosto, delirio, è American Gods di Neil Gaiman, iniziamo con i fantasy ho notato, ci sono molti fantasy in effetti. Vabbè, Neil Gaiman, ho iniziato questo libro ad agosto, non è esattamente il mio genere perché è un libro un sacco strano, ma al contempo mi affascina, quindi diciamo che non è quel genere di libro che mi fa venire voglia di lavorarlo in una seduta di lettura, ma mi va di sapere come va a finire, cioè non è che mi dico non mi piace eccetera, sono arrivata per il momento al capitolo 8, pagina 178, sono tante pagine, quasi 500, io mi auguro di finirlo per la fine dell'anno perché pian pianino insomma me lo sto leggendo, sto cercando di far fronte a questa mia difficoltà, spezzettando molto la lettura, io spero in bene. Allora, poi passiamo ad un altro libro complicato che mi sta creando molti problemi perché l'ho iniziato credo dicendo dell'anno scorso, ho letto il primo capitolo, poi l'ho preso, rimollato in varie periodi dell'anno, evidentemente non era mai il momento giusto perché non è che non mi stesse piacendo, sapete quando un libro vi chiama ma non è quello il momento giusto, cioè lo volete leggere ma non è quello il suo spazio. Madame Bovary di Flaubert, non so che dire, mi sento malissimo perché io volevo già averlo finito l'anno scorso, cioè quando l'avevo iniziato, ma non lo so, mi ha bloccato qualcosa, però sento che l'inverno è il momento giusto per leggere i classici, non so perché, l'anno scorso ne avevo letti due di fila, quindi io sono fiduciosa per questa cosa e mi piacerebbe davvero tanto finire il 2019 dicendo ah, e anche Madame Bovary ce lo siamo portati a casa, sarebbe davvero una bella soddisfazione, oltre che un sollievo. Poi passiamo a tre cosine mitologiche sulla mitologia greca. Allora, ci sono due invii, il primo l'ho richiesto io a HarperCollins, ovvero Le Nuove Eroidi, che riprende le Eroides proprio di Ovidio e reinterpreta la visione femminile delle lettere che Ovidio aveva scritto da una prospettiva ovvio tutta femminile, perché quelle che parlavano proprio erano le eroine, le donne. Le autrici che sono presenti sono Ilaria Bernardini, Caterina Bonvicini, Teresa Ciabatti, interessante, a tre le lattanzi, Michela Murgia, Valeria Parrella, Veronica Raimo e Chiara Valerio. Io ne ho letti un paio, per ora ne parleremo bene più avanti perché me la devo studiare bene questa cosa. Poi a sorpresa, Ippocampo invece mi ha mandato questo gioiellino meraviglioso, ovvero il romanzo di Artemide, che è come al solito curato graficamente una meraviglia, vorrei trovarvi qualche tavola un po' più ricca, e praticamente parla proprio della storia di Artemide, del suo mito, spezzettato in piccoli racconti, adatti anche ai più piccoli, di facilissima comprensione, e spezzettandoli così è veramente comodissimo, perché io ogni sera me ne leggo un pezzo, ed è un bellissimo accompagnamento prima di andare a dormire. Quindi andando avanti così, con calma, direi che per fine dicembre ce la possiamo fare. E infine, un libro che ho da un anno, e che da un anno bravo di leggere, Cassandra dei Christa Wolf. Allora, questo libro è complicato, va letto con l'attenzione, ho provato ad ascoltare l'audiolibro la prima mezz'oretta, è complicatino, devo riascoltare bene i passaggi, e pensavo in realtà di leggerlo e basta, perché è troppo... va vissuto sulla carta, secondo me. Cioè magari, allora, la versione di audiolibro su Audible è molto intensa e ben fatta, però magari va bene per un riascolto, cioè se lo si è già letto una volta. Non lo so, sospendo il giudizio anche qui, non so in che modo lo leggerò, ascolterò, però sicuramente questo deve essere concluso nei prossimi mesi, necessariamente. Un'altra cosa che ho ripreso in mano, finalmente, e sono super contenta di questa cosa, è l'arco di trasformazione del personaggio, come perché cambia il protagonista di Una Grande Story, Dara Marx. Questo è incentrato più in un'ottica di sceneggiatori e film, ma in realtà, se si vuole creare un buon personaggio, va benissimo in generale. Ho ripreso a scrivere in maniera quasi costante, non esageriamo, quindi ho detto che adesso Giorgia ti metti anche per bene a studiare scrittura creativa. Quindi, cos'altro, se non la Marx, che è la più grande teorizzatrice di questa teoria, cioè l'ha creata lei, per imparare a scrivere bene i personaggi. Quindi, questo per quanto riguarda il versante cultura, apprendimento personale, direi che ci siamo. Poi, sul mio Kindle, per il momento, sto per iniziare a leggere Il priorato dell'albero dell'arance, che uscirà il 26 di novembre, edito Oscar Vault, con una delle loro edizioni spaziali. Loro mi hanno inviato l'edizione, appunto, PDF e i pub, quel che l'è, in anteprima da poter iniziare a leggere, e nei prossimi giorni proprio lo inizierò, cioè probabilmente quando uscirà questo video l'ho già iniziato, anche perché è un bel tomone di 800 pagine, e sono super curiosa perché si parla del fantasy dell'anno, quindi, insomma, devo dire che ho grandi, grandi aspettative per un grande libro. E sto anche leggendo Ravensong, per la gioia di Elena. Niente, è il seguito di Artsong, le mie cose belle con il di Cantropi Gay, questo libro è raccontato dal punto di vista di Gordo, il bellissimo Gordo. Poi, io, Lessie, sono il primo capitolo di Alba Oscura, cioè Dark Dawn, il terzo libro della saga, il libro terzo degli accadimenti, di Illuminotte, ce la posso fare, vabbè, della saga di Nevernight, di Jay Kristoff, le edizioni porno della Oscar Vault, bellissime. Ah, vi faccio vedere una cosa bella, su questo post-it c'è l'autografo di Jay Kristoff. Niente, si sono sovrapposte 3.000 altre letture, impegni, scadenze, cose varie, e l'ho mollato lì, però è assolutamente mia intenzione concludere la saga, anche perché ci avevo letto i primi due, non finisco Nevernight. Poi, altri invii da case editrici, abbiamo Antichi Nuovi di Zeck, so perché mi sono un po' penata, di Kate Tempest, poetessa di cui ho già letto All Your Own, questo test è molto più piccinino, e dopo che avrò finito Fiore di Poesia, che è la lettura in corso per il GDL ecopoetico, mi dedicherò assolutamente a questo. La Tempest fa spoken word, e mi piacerebbe anche associare alla lettura di questo librino anche la visione della sua performance artistica. E per quanto riguarda invece dalla Mondadori, mi è arrivato Seidi Corvidi e Lei Bardugo, Six of Crows in inglese, io l'ho già letto, e vorrei rifare una lettura, proprio per vedere com'è la traduzione in italiano, per rinfrescare un po' la memoria, anche perché ieri, cioè il 29 di ottobre, è uscito questo, Il Regno Corrotto della Grisha, perché in inglese è Crooked Kingdom, che io ho in libreria da secoli, dal mio compleanno forse, che però l'ho ancora letto per... perché sì, adesso io rileggerei in italiano, e il primo è proprio per poi avventurarmi. Sulla lettura del secondo in italiano, visto che ci sono, che è anche bello corpulento, un bel signore. Quando l'ho letto, io mi sono davvero innamorata di Seidi Corvidi, lo vedete tra l'altro? No, non si vede, scherzone. Mi sono innamorata perché ha dei personaggi validissimi, a partire da una trama molto semplice, e la scrittura della Bardugo mi fa impazzire. Secondo me, e anche secondo molti altri, è una delle autrici più valide sul panorama contemporaneo fantasy. Vi lascio una recensione che ho fatto per Seidi Corvidi, e Nevernight, mai dimenticare. Quindi, questi due bimbi bellissimi, che sono giunti alla mia collezione, spero di leggerli quanto prima. Il problema è che non me li posso portare in giro, perché sono troppo belle se li rovino, penso che mi ammazzerei. Se li rovinassi, penso che mi ammazzerei. Allora, poi ci sono altre due cosine di mitologia che vorrei leggere. Io mi auguro di leggerle, perché ci tengo tanto. Allora, il primo me l'ha regalato la Vale, per il compleanno, ed è un'odissea, un padre e un figlio in epopeia di Daniel Mendelssohn. Rientra sempre nei libri mitologici che vorrei leggere. In particolare, l'autore del libro parla del suo seminario dell'odissea, a cui ha partecipato anche il padre Geri. Quindi, insomma, si crea un discorso di comparazione tra il rapporto padre-figlio dell'autore, insomma, il rapporto tra Odisseo e Telemaco, e in generale il viaggio di Odisseo. Ovviamente, qualsiasi cosa riguarda la mitologia greca ne affascina, ma mi sembra ormai ridondante sottolinearlo. Mentre, come regalino di laurea, che ho molto molto apprezzato, perché hanno un'abilità, ste ragazze, nell'azzeccare le cose che io infilo nella wishlist, mi è stato regalato dalla Vale e da Marica il silenzio delle ragazze di Pat Barker, una voce di donna, ovvero Briseide, che racconta, in quanto schiava di Achille, la guerra di Troia. L'ho visto, l'avevo scoperto su Amazon, prima che venisse pubblicata in Italia, è stata anche un'uscita recente, non mi ricordo se di settembre o comunque dell'estate, l'avevo trovato su Amazon in inglese e mi aveva sin da subito affascinata. Quindi, grazie ancora ragazze, per il bellissimo regalo, io spero di riuscire a leggerlo quanto prima. E infine, allora, c'è questo libro che ho comprato un anno fa e che non mi sono ancora decisa a leggere, però devo finirla questa cosa prima o poi, ed è L'isola del santuario, la saga del dominio di Licia Troisi. Ora, il giorno in cui vedrete questo video, io starò partendo per Lucca. L'anno scorso l'ho portato a Lucca per farlo autografare, non l'ho più letto. L'idea sarebbe quella di portarmi appunto un libro in giro, oltre al Kindle, per leggerlo. E dato che gli altri libri, non so, mi dispiace rovinarli, e ho pensato anche di portare questo, perché Licia Troisi mi ricorda Lucca. Perché così almeno me lo levo, no? E finisco questa serie. Non lo so, spero di portarlo, o nel caso di finirlo entro il 2019. Chi lo sa come andrà a finire, lo scopriremo solo vivendo. Detto questo, questi sono i trentardicimila libri che vorrei leggere prima della fine del 2019. fatemi sapere se c'è qualcosa che vorreste leggere, che cosa aspirate a leggere voi quanti libri, questi sono già troppi. Niente, io spero che il video vi sia piaciuto, se è così potete farmi spiegare con un mi piace, un commentino, potete iscrivervi al canale, attivare la campanella, ci sono qua sotto i libri che vi ho citato, di affiliazione, Ko-fi e bla bla bla. Io di nuovo spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!